Un vertice per valutare in maniera approfondita le azioni di prevenzione dei fenomeni di devianza, soprattutto giovanili, si è tenuto in prefettura Barletta, convocato dal prefetto Maurizio Valiante alla presenza dei vertici provinciali delle Forze dell'Ordine, del presidente della regione Puglia Michele Emiliano, del commissario prefettizio di Barletta Francesco Alecci e dei sindaci dei 10 comuni della BAT. Il comitato segue quello del 30 ottobre scorso, convocato poche ore dopo alla morte del 24enne Claudio Lasala, accoltelato all'esterno di un locale del centro storico. Abbiamo fatto un'analisi approfondita dello stato di disagio che sta vivendo non solo la comunità barlettana a seguito dell'ultimo evento luttoso, ma tutta la provincia. Abbiamo messo in campo delle iniziative che verranno finalizzate per la prevenzione di questi fenomeni con la grande disponibilità del presidente Emiliano che ci ha dato veramente un sostegno non solo di valori, ma anche da parte disponibilità finanziaria per ogni e qualsiasi iniziativa finalizzata a riprendere un dialogo con la cittadinanza. Mi serve una particolare reazione che come hanno detto i genitori di Claudio non può essere una vendetta, perché non parliamo di vendetta, i genitori di Claudio sono da questo punto di vista straordinari, non può essere una vendetta. Deve essere invece costruire un sistema, una società che evita che alcune generazioni, come forse è accaduto anche a causa di quello che abbiamo passato, vivano per strada come se la strada fosse un luogo dove poter fare quello che vogliono.